Il fatto che ci sia questa legge lo trovo positivo, lo trovo positivo perché è una forzatura, ti costringe a prendere in considerazione questo aspetto. È una forzatura che però apre comunque la possibilità a donne di farsi avanti e di entrare nella gestione della cosa pubblica. Allora dove questo è accaduto, come nella giunta Pisa Pia, abbiamo visto i risultati. Comunque sono stato fatto un ottimo lavoro, la componente femminile c'era e ha dato un grandissimo contributo. Quindi sono dati importanti. A me piacerebbe che ci fosse più un ordine naturale di queste cose, che ci fosse la possibilità comunque di esserci e di partecipare senza che una legge debba sostenere fortemente questo aspetto. Però evidentemente il nostro paese ancora deve crescere da questo punto di vista. Quindi benvengano iniziative di questo tipo che ti aprono e ti danno delle possibilità di incidere.